Vedete, oggi parleremo, avete avuto modo di vedere che ormai, come abbiamo già detto, la politica comincia a riscaldarsi, cominciano questi compronti, prima che l'ho diventata questa sera avrete avuto modo di vedere, sempre come al solito, intorno alle 21, 21 e 30, quello che è la trasmissione, il compronto elettorale con i tre candidati realizzato da prima radio con le domande di Federico Orlando ai tre candidati, per una durata di un'ora e venti, un'ora e trenta circa, dove avrete modo di sentire quello che sono il modo di vedere dei candidati sulla città di Partinico, come del resto avete avuto modo di vedere e vedrete anche nei prossimi giorni quelle che sono le tre ruote libere, cioè mezz'ora messa a disposizione per ogni candidato per raccontare cosa vuole fare di questa città. Abbiamo avuto modo di vedere un po' di confusione, un po' di libro dei sogni, un po' di cose che a mio parere non realizzabili, quantomeno a breve scadenza, non sono cose che Partinico si può inventare, veniamo da un non distesto economico, veniamo da qualcuno, forse lo dimentica completamente, parlo dei tre candidati in generale, veniamo da un non distesto economico, da uno scioglimento per mafia, da quello che è un paese in questo momento devastato l'emergenza e dove si va? Verso altre emergenze, soprattutto di natura economica, di natura sociale, del fatto che i commercianti, gli artigiani non riescono ad andare avanti, la popolazione non riesce a vedere quello che è l'indomani cosa mettere in una pignata, insomma tante cose, ma ci sono i candidati che parlano di futurismo, di futuro, di libro dei amici, di libro cuore e tanto altro ancora. Intanto proprio per portarvi l'esempio, perché tra qualche istante avrete modo di vedere proprio pezzi, abbiamo estratto tre pezzettine per darvi un assaggio di quelli che sono i servizi, la trasmissione realizzata con un primo a radio e un assaggio di quelle che sono le interviste o meglio più che altro, scusate, le dichiarazioni, le ruote libere fatte dai candidati. Questa è la politica di oggi, poi ci saranno gli incontri e la presentazione dei candidati, attenzione, per i vari candidati, incontri e presentazione delle liste e dei candidati alla quale noi se invitati saremo presenti. Ovviamente non saremo presenti in quelle che sono le passeggiate in giro per il paese o queste esternazioni per rispettare anche la parconicia. Intanto, tanto per darvi un po' quello che è l'assaggio di cos'è, me l'abbiamo dato nel corso di 70 anni, ma cos'è Partenico e come è ridotto, c'è un cittadino di Partenico, lo chiamiamo Nicola, ma è fermato ovviamente, che abita in via Edison, che scrive alla Commissione straordinaria, all'ufficio protocollo, parliamo del Comune di Partenico, alla Polizia Municipale, al settore gare appalto e cura della città e al comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Con allegate le foto che adesso vedrete, lo scrivente con la presente intende denunciare la situazione che si è verificata incontrata a Sicama, territorio di Partenico, accanto al potabilizzatore AMAP, di una discarica abusiva a cielo aperto. Non mi sono fermo sulla situazione sanitaria e il degrado dell'ambiente, in quanto una immagine dicono tutto, ma su alcune domande è possibile in una cittadina, ecco, cari candidati, sindaco, è possibile in una cittadina come Partenico arrivare a questo punto? È una questione di disservizio di chi è preposto alla raccolta dei rifiuti, è una questione di mentalità e senso civico dei partenicese, come diceva qualcuno, la domanda nasce spontanea. Questa missiva è stata inviata agli uffici in intestazione il 25 ottobre del 2022. Ora noi abbiamo un paese devastato da quelle che sono le micro discariche, le discariche da cittadini che si andavano in parliamo e lanciano un sacchietto nella circomballazione, parliamo in questi giorni del cimitero, parliamo di quelle che sono le scappe di Partenico, parliamo di quelle che sono le emergenze giornaliere, parliamo e c'è qualcuno che parla di cose faraoniche? A mio parere che né le casse comunali né ovviamente, tant'è che uno si vuole candidare al sindaco e allora per ora, ecco, dobbiamo sapere distinguere e vi invito a distinguere quella che è l'ipocrisia, il libro dei sogni dai fatti reali. Non si può dire, nessuno dei tre candidati può dire, nessuno dei tre candidati può dire, domani chiudo la distilleria Bertolino, perché è impossibile, in quanto l'unico, vi porto ad esempio per tanto per dirvi, l'unico punto di forza dove il comune di Partenico può chiudere la distilleria Bertolino è l'arrevoca dell'autorizzazione allo scarico, ma l'arrevoca dell'autorizzazione allo scarico, tutto il resto, emissione in atmosfera, eccetera, eccetera, dipende da altri denti, come la città metropolitana e come venderemo il giorno 4 quello che succederà. Ma a revocare lo scarico alla distilleria Bertolino per fermarla, perché di fatto revocando lo scarico della distilleria si ferma la distilleria, non potendo più scaricare, ci deve essere un motivo valido, cioè la distilleria deve essere presa con le mani nel sacco che sta inquinando, il che oggi è impossibile, sapete perché è impossibile? Perché per andare a fare il prelievo, il campione, nel pozzetto che è stato predisposto con la nuova, con il scarico che ci faceva sotterrato, ammucciato, la signora Bertolino aveva 8 minuti di tempo per canciare l'acqua, c'è una ghire, uno della signora Bertolino e uno dell'arpa o i vigili urbani o chi per loro, e avanti che arrivano da, ci arriva acqua minerale, dopodiché il tocchi, il ticchi tocchi e tutto il resto sono tutte fantasie, quindi dire e chiudere la distilleria Bertolino è come dire una grande, scusa del termine, minchiata. Grazie 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 Grazie